scusa si dimmi no cioè non ci voglio credere ma tu sei MET degli HMET si sono io no ma non ci credo cioè ma sei veramente tu cioè no ma tu sei troppo un grande cioè ma sai quanto ti stimo io cioè ti stimo più dei marshmallow renditi conto dai ti prego ti prego ti prego ti prego mi fai bum bum dai per favore per favore cioè no veramente finalmente una gnocca che mi riconosce madonna ma ci sta tutta speriamo che mi chiede facile il numero ascolta non cioè non vorrei essere sfacciata però mi puoi dare il tuo numero e vai cazzo allora 393 XY 9 9 9 9 9 9 1 minchia grazie ma veramente MET veramente grazie ascolta mi devi fare un favore ma di quelli grossi di quelli grossi grossi vabbè ascolta eh adesso ti faccio uno squillo no e tu puoi dare il numero a Luca perché troppo fregno io me lo sogno la notte e mi devi fare questo favore metti una buona parola per me ti prego ah ok si contaci grazie MET grazie MET sei troppo bravo simpaticissimo e tanto tenero grazie ciao ok ciao l'ho sempre detto che sono uno bello dentro fanculo ma scusa non è colpa mia no no non è colpa tua spero che fermassero te cioè cosa sono io un postino ah c'è posta per te Ale è arrivato lui ma non lo so non so non l'agenzia matrimoniale io vabbè gli faccio uno squillo ok vabbè faccio uno squillo pronto pronto ma io sono pronta sono Viviana Luca beh dimmi qualcosa no dai sono un po' timidella sei un percone fammi boom boom dai boom 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 oddio grazie Luca un boom boom solo per me oh senti Luca oggi ci possiamo vedere si 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 ok allora ci vediamo tra due ore al parco si 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 tra due ore vendo è una donna oddio cos'è no no un'ora al giorno toglio il medico di torno ah ok aah mi sento il medico dei coglioni indietro schifezza vabbè basta cantare cantare ululare abbaiare si infatti basta ehm Viviana Luca ascoltami io devo proprio dirtelo io sono una ragazza seria sai cioè oddio eh tutte le volte faccio le foto con i cetrioli però in fondo sono una ragazza seria te lo giuro no no mi dispiace io sono uno dei sani principi niente sesso fino al matrimonio Luca ma che dici t'ho detto di no cazzo mene t'ho detto di no cazzo mene no basta io sono uno dei sani principi cosa vuoi di più della vita un amaro lucano in effetti questa cosa non me l'aveva mai detto nessuna fa un po' schifo però ma si va oddio che goduria vabbè ora devo proprio andare che c'è un tonno di briscola ciao ciao ok chiamami eh chiamami questa è la volta buona che devo cambiare il nome ciao no te lo giuro ma sai che mi sono fatta oggi boom boom come cazzo fai a saperlo se non aveva gente ma chi è sta qua che mi sta videochiamando Luca brutto pezzo di merda tu non mi hai chiamato ma basta questa tipa è proprio da pareggio facile allora un po' il